Cari amiche e cari amici di Barba Sofia, probabilmente il soggetto politico, ma in questo caso trattasi anche di e soprattutto di un soggetto religioso, etico e morale che più di tutti si sta spendendo per la pace o almeno per interrompere la guerra in Ucraina, è Papa Francesco. Papa Francesco infatti dopo aver condannato l'aggressione della Russia, dopo aver condannato la scelta di Putin e del governo russo di attaccare, aggredire, invadere l'Ucraina e dopo aver però al contempo criticato duramente la corsa agli armamenti e anche la politica della Nato vista come aggressiva e destabilizzante. Ebbene, dopo questi interventi, dopo queste critiche, il Papa si è proposto come mediatore, come uomo di dialogo e ha chiesto di incontrare Putin e di incontrare anche il patriarca di Mosca. Poi questa richiesta di incontrare il patriarca Kirill, il patriarca russo, il patriarca di Mosca, il patriarca ortodosso di Mosca, della Russia, ebbene si è interrotta perché non c'erano le condizioni. La domanda che vi pongo è, può realmente Papa Francesco interrompere questo conflitto? A mio avviso no, io penso che questo conflitto terminerà solo quando Putin di fatto deciderà di interrompere la guerra, i bombardamenti dell'Ucraina, dell'Est, di interrompere l'invasione, oppure quando il governo di Kiev deciderà di concedere dei territori. Adesso sembra che Zelensky sia disposto a trattare sulla Crimea, altrimenti altre opzioni non ne vedo, nel senso che ci potrebbe essere una fine della guerra qualora la Russia conquistasse, occupasse tutta l'Ucraina, ma questo non avverrà mai poiché dietro ormai l'Ucraina c'è l'appoggio militare totale degli Stati Uniti, dell'Inghilterra e della Nato, è una guerra convenzionale, la Russia contro una Ucraina spalleggiata, appoggiata dalla Nato non potrà mai vincere, oppure quando l'Ucraina e con i suoi alleati respingerà fuori dall'Ucraina stessa, al territorio ucraino, l'esercito russo e dunque infligendo l'esercito russo una sconfitta direi totale. Anche questa opzione mi sembra francamente complessa, difficile da realizzarsi. Allora potrebbe esserci questa missione diplomatica di Papa Francesco, la vedo dura. Papa Francesco ha una volontà di dialogo, ma dialogare con ad esempio la Chiesa Ortodossa non è facile perché la Chiesa Ortodossa non si muove in una dimensione universalistica come quella cattolica ad esempio, cioè un dialogo tra Mosca e Roma, Roma e Mosca, per quanto riguarda il cristianesimo, il cristianesimo ortodosso di Mosca, il cristianesimo appunto cattolico-romano è molto difficile perché le Chiese Ortodosse hanno una caratteristica particolare, sono tutte molto legate ai governi, sono legate al territorio, alle patrie, sono legate dunque alle nazioni, ai governi, dunque il patriarca appunto di Mosca è di fatto legato al governo russo, dunque non parla mai per conto solo della chiesa, una chiesa che è chiesa nazionale, chiesa di territorio, chiesa di Stato, chiesa legata profondamente al governo e così vale per le altre chiese ortodosse del mondo che sono delle chiese non di stampa universalistica come quella cattolica, come anche il mondo islamico, cioè sono delle chiese legate di fatto a una specifica identità etnica, culturale, statale, nazionale, tante cose messe insieme che costruiscono però un blocco molto forte. Ebbene, dunque è difficile che il vescovo, il patriarca di Mosca e tutte le russie sia poi disponibile ad un dialogo autenticamente ecumenico interreligioso. L'altro giorno ascoltavo in un'intervista il noto teologo Vito Mancuso, il quale parlando delle chiese ortodosse ha detto c'è un modo di dire nel mondo ortodosso, c'è un detto che appunto una goccia di sangue vale più di una goccia di acqua, pesa di più il sangue dell'acqua. Cosa vuol dire? Che pesa di più nel mondo ortodosso il sangue, cioè il legame etnico, il legame nazionale, il legame culturale, il legame del territorio, il sangue scorre nelle vene di quei popoli rispetto all'acqua, l'acqua come elemento poi universalistico del battesimo. E dunque da una chiesa di quel tipo è difficile immaginarsi un dialogo autenticamente poi comunque indipendente dal potere politico del governo Putin. Lo stesso Putin potrebbe anche accettare di incontrare Papa Francesco, però su quali basi, su quali elementi dialogici? Dovrebbero esserci elementi dialogici appunto di tipo umanista, religioso, interreligioso, e in questo momento forse non ci sono le condizioni. Certamente è bello vedere come in questo anche mondo fatto di armi, un mondo dove sta prevalendo il conflitto, la dia dei bombardamenti, dell'invasione, dei cararmati, degli assedi, ci sia una voce anche un po' triste e malinconica per alcuni aspetti perché è una voce di solitudine del Papa che ricorda una dimensione di pace profonda della cristianità. Poi quello della chiesa non è un pacifismo totale perché nel diritto della chiesa, nella teologia cristiana, il diritto alla difesa c'è, però negli ultimi decenni, e anche la guerra in Iraq condannata dalla chiesa, negli ultimi decenni c'è stato un crescendo da parte della chiesa di una posizione di pace, di dialogo e di far cessare il fuoco. La chiesa ha giustificato poche guerre appunto negli ultimi decenni e questa è una svolta interessante e importante. Certo poi la guerra è una questione tra stati, ci direbbe Hobbes, la questione di stati tra stati, ci direbbe Hegel, la questione di amico-nemico e di rapporti di forza, ci direbbe Karl Schmitt oppure una questione di interessi economici e di esponazione imperialistica, ci direbbe Lenin. Dunque alla fine la guerra difficilmente si deciderà intorno ad un dialogo ecumenico, difficilmente si deciderà intorno ad un tavolo di pace preceduto da Papa Francesco. Certamente spicca, a mio avviso, la nitidezza di questa voce e anche la capacità di fare una critica molto forte alla corsa degli armamenti in un momento in cui tutti invece hanno scelto questa via che io cantieramente ho già detto essere una via miope perché è vero che armarsi crea l'equilibrio del terrore ma l'equilibrio del terrore sfogano poi questi accumuli di armi in tante altre guerre regionali, microguerre che poi diventano macroguerre e sono sempre guerre in cui muoiono delle persone anche se magari sono delle guerre che incidono di meno nell'ambito economico. Qui invece il rischio è di andare a una guerra veramente globale, una guerra globale che a parole nessuno vuole ma la corsa degli armamenti, ad alzare il tiro, il parlare così ripetutamente di armi nucleari anche per dire che non si usano non fa presagire nulla di buono, anche il dire noi siamo pronti a una guerra permanente, noi siamo pronti a una guerra totale, risposta di Putin, noi siamo pronti ad andare avanti questa guerra per tantissimo tempo, racconto la risposta di Biden, bene anche tutte queste affermazioni fanno capire che la pace è veramente lontana, lontana, poi ci possono essere i colpi di scena, i colpi di scena però passano per la voglia di trattare, la voglia di trattare, la pace è la tregua, è una volontà politica e bisogna da lì passare, non si può essere in presa di una guerra infinita, anche se questa guerra permanente che nel mondo c'è in modo particolare a partire dalle Queen Towers, ma anche dopo il crore del muro di Berlino, si è dovuto creare una situazione di guerra permanente in tante ere del pianeta, è una situazione che sta ridisegnando geopoliticamente il pianeta e soprattutto sta ridisegnando la corsa anche alle materie prime. Non sottovalutate anche l'Europa che è attraversata da grandi cambiamenti, cioè la Germania in grande difficoltà, Scholz non riesce a dare una linea ben precisa alla Germania, tutto ciò in parte spaventa anche la Francia che non ama questo corso degli argomenti della Germania, ma vorrebbe col contempo un asse con la Germania stessa per poter non far espandere troppo la presenza americana sul suolo europeo. La Francia è evidente che non vuole comunque, al di là dello ostilità in corso contro la Russia di Putin, la Francia non vuole un domani, un muro contro un muro totale contro la Russia di Putin, non vuole spellere la Russia da ogni dialogo con l'Europa. Ma sulle politiche di Macron dedicherò poi un video particolare, oggi voglio mettere solo alcuni puntini sulle grandi differenze tra la chiesa ortodossa nata dallo scismo nel 1054 e la chiesa cattolica. L'universalismo cristiano-cattolico non è appunto il nazionalismo cristiano-ortodosso. C'è anche mia figlia Atena che vuole farsi vedere, ecco lì, che saluta a tutti, ciao a tutti, buon pomeriggio e come al solito seguite i video, ne pubblicate tantissimi anche su Aristotele, se volete sostenere il canale sotto trovate anche il link a TP.